Certamente sì perché il Comune di Taranto con la delibera numero 65 del 2007 ha stabilito un limite all'espansione della città quindi evidenziando appunto l'azione solo nei confronti dell'esistente ma in questo caso dobbiamo prendere atto che il sindaco sta venendo meno se ciò avverrà a quello che è il suo programma elettorale infatti nel programma elettorale del sindaco stessano si parla appunto di non incremento del territorio tarantino in quella zona ma non solo ma c'è anche il Tarlecce e il Consiglio di Stato che con le due sentenze hanno evidenzato appunto questa violazione del principio del buon andamento sulla base appunto di una palese illogicità, cioè sia il Tarlecce, questa in occasione della questione Sircom che riguardava proprio Cimino, la zona di Cimino, cioè il Tarlecce e il Consiglio di Stato hanno evidenziato appunto questa illogicità basato sul fatto che la città di Taranto sta subendo un decremento democrafico e quindi è illogico estendere ulteriormente il territorio verso la zona Cimino. Quindi invitiamo il Consiglio Comunale a rivedere la propria posizione perché altrimenti noi saremo costretti a ricorrere al giudice amministrativo.